Ooooooooh AC Milan Ciao a tutti fratelli e sorelle bentornati benvenuti Nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo Dai Milan Dai Milan che domani torna Torniamo a giocare in Europa In una partita che secondo me Dobbiamo stare attenti ragazzi alla partita di domani Non sottovalutatemi Non sottovalutatemi Il Ren Allora adesso poi parliamo della partita Parliamo della conferenza stampa Sono appena uscito da conferenza stampa Con il mister e Matteo Gabbia Sui canali ufficiali del Milan Adesso parliamo un po' di tutto Prima però mi sono segnato due cose molto importanti Di cui parlare Il primo è questo Ciucu a Milanello Allora premetto Il Ciucu non sarà convocato per la partita di domani Perché visto che lo chiedevate tutti prima Nelle chat della conferenza stampa Perché ovviamente il Ciucu è atterrato questa mattina a Milano Dopo un lungo viaggio Dopo la Coppa d'Africa Il Ciucu è a Milanello Applaudito al suo arrivo Ciocquezi è atterrato È arrivato a Milanello Dopo un lungo viaggio inottata dall'Africa In abiti borghesi Ha ricevuto l'abbraccio di Piori E lungo applauso da tutti i compagni di squadra Accolto in famiglia E da un evidente spirito di gruppo Ovviamente facciamo Un super abbraccio al Ciucu E tra l'altro il Ciucu è l'ultimo tassello che mi manca Ragazzi l'ultimo tassello che mi manca In tutta la campagna acquistica abbiamo fatto quest'estate Se andiamo a vedere il rendimento di tutti i giocatori che sono arrivati nella campagna acquisti estiva Hanno fatto tutti super bene E ha incluso ovviamente Matteo Gabbia che è arrivato nella campagna acquisti di gennaio Diciamo e beh anche c'è anche Terracciano Però diciamo che della campagna acquisti estiva Sto ancora aspettando che il buon Ciucu Dia in questa ultima fase di campionato Dove secondo me sarà importantissimo Spero che ci dia anche lui una grande grandissima mano Terracciano anche lui insomma Dovrà dimostrare anche lui E invece per quanto riguarda appunto la partita di domani Terracciano non sappiamo se verrà schierato o no Molta probabilità Chier ce la fa Adesso arriviamo a parlare A parlare anche di quello Però abbiamo una notizia Anzi plurinotizie Che io vi devo dare Ok ovviamente dicendo questa notizia Faccio tutti gli scongiuri possibili E tocco qualsiasi cosa di ferro Ci sia qua Anzi tocco qualsiasi cosa di ferro Ci sia qua nella portata delle mie mani Perché Chier Vi leggo i giocatori E vi dico le situazioni Chier parte Ha fatto parte dell'allenamento in gruppo Domani sarà convocato E dovrebbe Essere parte della partita Tra l'altro prima in diretta facevamo Un discorso secondo me Molto intelligente E il discorso qual era? Era che Se devi scegliere Quando rischiare Tra virgolette Simon Chier Ha molto più senso Rischiarlo nella partita di domani Dove Alternative non ne hai Perché comunque Nella partita di domani O gioca Teo Simic non è convocato Imenez non è convocato Quindi se domani Non fai giocare Chier Devi mettere Teo centrale E mettere Terracciano sulla sinistra E quella è l'unica opzione possibile Invece se domani Decidi di rischiare Simon Chier Nella partita successiva Quindi quella che andremo a giocare Al Brianteo A Monza Lì Di alternative Ne hai già diverse Perché comunque Puoi giocare con Simic Sicuramente Dalla partita contro Domani è convocato Malik Chao Sicuramente Nella partita contro il Monza Avrai a disposizione Anche Malik Chao Ai Simic Quindi già Dalla partita col Monza Grazie Sanculino Iniziamo a ricomporre Tutto il nostro puzzle Dei difensori centrali Quindi Il discorso che facevamo prima Che vi riporto Perché ripeto Lo trovo un discorso Molto intelligente Se devo scegliere In quale partita Rischiare Sibon Chier Ha molto più senso Rischiarlo Nella partita di domani Poi vedremo Insomma Che cosa succederà Secondo giocatore Di cui appunto Vi volevo parlare È Malik Chao Ha svolto L'intero allenamento In gruppo Domani sarà convocato Difficilmente Domani sarà Della partita Se non magari In un breve Scampolo finale Di partita Però vediamo Insomma Malik È completamente recuperato E probabilmente Appunto Verrà convocato Anche nella partita Contro il Monza E può darsi Che lì in realtà Magari titolare Non credo Però lì avrà Qualche minutino In più Gli ultimi due Invece E qua ve lo dico Ovviamente Con un bel sorrisone Il primo è Calulu Che torna A lavorare In campo Corre Con Corre in campo Quindi è tornato A correre in campo Più allenamento Personalizzato I tempi stimati Del suo ritorno A disposizione Per l'eventuale titolarità Ovviamente Poi dopo sappiamo Benissimo Tutti che ci vuole Ancora un po' di tempo Si tratta ancora Di circa Una decina di giorni Quindi probabilmente Sarà a disposizione Poi per la titolarità Tra virgolette A partire da fine Di questo mese Che oramai mancano Veramente Due settimane L'altro giocatore Che invece sta facendo Passi in avanti Per il recupero Anche lui È Ficaiotto Mori Che oggi si è allenato In palestra Dall'inizio Dall'inizio della prossima Settimana Dovrebbe iniziare A fare parte Dell'allenamento Con la squadra E quindi anche lui Dovrebbe arrivare Praticamente Ad essere pronto A fine mese Quindi queste erano Tutte le notizie Che vi volevo dare Su Simon Kier Su Malik Chao Su Pierre Calulu E su Ficaiotto Mori Bene ragazzi Allora Prima di andare in sigla Volevo dirvi una cosa Ieri vi ho detto Ragazzi Vi ringrazio tantissimo Perché il video Sul secondo canale Era arrivato a 20.000 Ragazzi Il canale Sul secondo canale Il video L'ultimo video uscito Che tra l'altro Oggi giro il video Il prossimo video Il video nuovo Del secondo canale È arrivato a 30.000 Ragazzi Abbiamo sul secondo canale Abbiamo fatto Il record di visualizzazioni Con 30.000 Nel video Quindi Se qualcuno di voi Non l'avesse ancora visto Nel primo commento Trova il link Per il video Quello su Sanremo Che è arrivato a 30.000 Grandi ragazzi Per l'appoggio Ovviamente Pollice in su Per questo video Per il Milan Dobbiamo portare fortuna Al Milan per domani Iscrizione a questo canale Se non l'avete ancora fatto E anche iscrizione Al mio secondo canale Andiamo E iniziamo a parlare di tutto 1 2 3 Sigla Oh Da dove Partiamo 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 dalle parole Del mister Le partite A livello europeo Sono sempre difficili Loro hanno talento Sono veloci Verticali E hanno molta qualità Ovviamente il mister Si riferisce a Ren Squadra da affrontare Con grande attenzione E cura L'Europa League È un gradino Ovviamente sotto la Champions Ma ci sono tante squadre Importanti Il fatto che il Milan Non abbia mai vinta È uno stimolo in più Pensiamo solo a domani La partita di domani Può essere già importante Di quella sera Newcastle Mi rimane Dice il mister La delusione Per non essere riusciti A passare il turno Di Champions Ma non possiamo E non potevamo Continuare a disperdere energie A continuare Praticamente a pensare Su che cosa sarebbe successo Se avessimo vinto Soltanto una Delle prime due partite Dove abbiamo Dove avevamo Ampiamente Meritato La vittoria Abbiamo comunque fatto Il nostro percorso In Europa Devi essere al top Nella singola partita È ciò che vogliamo fare domani Già perché Questa è una considerazione Interessante ragazzi Perché Come vi racconto spesso io La differenza tra Il campionato La Champions League E O il campionato E le coppe Nel nostro caso È che Il campionato Tu Per essere Vittorioso Alla fine del campionato Devi avere continuità Devi fare Un botto di punti Devi vincere Un sacco di partite Devi sempre stare davanti Devi lottare Non devi mai Mai mollare nulla Anche magari in domeniche In cui Non sei particolarmente brillante Invece nelle competizioni europee La storia E anche Soprattutto Anche le competizioni Delle nazionali Ci hanno dimostrato Ragazzi Che Non importa tanto L'essere Continuativo Nei risultati Ma essere presente In determinate partite Ci sono partite E ovviamente Ritorno ancora Le prime due partite Di Champions Dove noi abbiamo Avremmo meritato Ampiamente la vittoria Non l'abbiamo fatta L'abbiamo pagata carissima Perché siamo andati a casa Dai 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 Gironi Di Champions E appunto Questo discorso Conferma ancora di più Che nella partita di domani Tu devi esserci Perché nei percorsi Delle coppe europee Non è tanto La 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 continuità Ha dei risultati Ma soprattutto Deve esserci Nelle partite Come quella di domani Dove Dove contano Poi Bayern Liverpool E Atalanta Sono le favorite Insieme appunto Al Milan Per il Insomma Per arrivare Fino Fino in fondo Poi Vediamo Chi sono i giocatori Più pericolosi Del Ren Il mister dice L'ho detto l'ultima volta Poi purtroppo Ci hanno castigato Quindi non voglio più Nominare Nessuno Sono una buona squadra Che gioca Sicuramente Un buon calcio Similitudini Con il match Contro il PSG No Sarà una partita Completamente diversa Gli attaccanti Tutti Stanno facendo Benissimo Tra l'altro Il ciucco Dice il mister Spero di averlo A disposizione Già dalla partita Contro il Monza Crediamo appunto Di sì Con tutti gli attaccanti Posso anche Permettermi di sbagliare Qualcosa Per poi rimediare A partita In corso Con tutte le partite Con tutte le partite Che faremo Tra poco Insomma Abbiamo la possibilità Di schierare tutti E avremo poi Bisogna Di tutti Tra l'altro ragazzi Vi volevo dire Una cosa Ieri Ieri Per chi ha visto Il video di ieri A un certo punto Io vi ho detto Quindi saluto Ovviamente I giornalista Che probabilmente Ha visto il mio video Di ieri A un certo punto Io vi dico Matteo Gabbia Che è migliorato Perché ha fatto Una parte di percorso Al Villareal Insieme Ad un difensore Non mi veniva Il difensore L'hanno chiesto Direttamente A Matteo Gabbia Che dice L'esperienza in Spagna È stato un cambiamento Importante Ho imparato tante cose nuove Ho giocato con più costanza E in maniera diversa Una serie di cose Che mi hanno aiutato molto E poi il giornalista Li dice Che cosa hai imparato Da un difensore Che ha diviso con te Diverso tempo Come Raul Albiol E lui Mi ha aiutato molto Al Villareal Ho un buon rapporto Con lui È giusto citarlo Anche per il mio miglioramento Quindi Abbiamo scoperto Che come vi dicevo Ieri Ieri Non mi veniva Il nome di Raul Albiol L'hanno chiesto Direttamente A Matteo Gabbia Le basi Sono simili Della fase difensiva Sempre Sono sempre in linea Con quello fatto Con il mister Io posso migliorare Nelle costruzioni In altre Mi sento migliorato Da quando sono tornato Ho pensato solo A lavorare Perché all'inizio Li chiedevano Di questo Ci siamo accorti tutti Di questo cambiamento Di trattamento Verso Matteo Gabbia Prima del suo periodo In Spagna Veniva No bistrattato Però veniva magari Poco considerato Dai social Invece adesso È esattamente opposto Se andate a vedere Sotto i profili social Di Matteo È un tripudio di cuori Da quando Da quando è tornato E lui dice Che Non Non che non gli interessa Però dice In questo momento Non mi sto soffermando Sui social O sulle tv Sono concentrato Soltanto su quello Che dobbiamo fare Noi come giocatori Per essere dei professionisti La stagione Sta andando avanti bene E dobbiamo continuare Così Poi Mi ero segnato Questa cosa Che dice Chier sta bene Questa lo dice il mister Chier sta bene Ha recuperato E domani può essere Della partita Malik Chao Sarà convocato Quindi abbiamo Anche qua Conferme Da parte sua Lo conferma Anche Ovviamente Più conferma Del mister Ovviamente non c'è Però lo confermano Anche tutti i media Che scrivono Che chi era recuperato E domani Sarà titolare Nella partita Di domani Confermata la stessa Formazione Delle ultime partite Con Florenzia Destra Al posto di Calabria A centrocampo E qua è l'altro Mega punto di domanda Della partita di domani Come giocheremo A centrocampo Domani a centrocampo Mediaset dice Il Mila giocherà Con Reinders E Benasser Con Loftus Quindi Reinders E Benasser Con Loftus Quindi riposa Yassin Adli Davanti ovviamente Abbiamo Il Come era Il pugile Perché Pulisic Giruleao Abbiamo il trittico Pugile Pugile davanti Tra l'altro Adesso con il ritorno Del ciucu Fortunatamente Ci sarà anche Un po' di ricambio Anche per Chris Che praticamente Le ha giocate Le ha giocate Poi vi volevo Leggere questa cosa Ieri mi hanno colpito Le parole Di Braimino Diaz Perché a un certo punto Li viene chiesto Ieri Sapete che ha fatto Questo gol Nelle ottavi Di Champions League Ma nella testa Del giocatore C'è sempre il Milan Dice che sto bene Penso non sia niente Di serio Il polpaccio Comunque vabbè E dice È stata una grande serata Anche sono contento Bla 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 E poi dice Dice praticamente Del Del Milan E Mi ha fatto piacere Dice il Milan Lo seguo E lo seguirò sempre Sento tutti i giorni Teo Hernandez Sento tutti i giorni Sento più Tutti i giorni Più Teo Hernandez Che la mia ragazza Quindi Braimino Sapete che Insomma è una cosa Che mi fa Mi fa piacere Tra l'altro Questa mattina Leggevo una discussione In cui si chiedeva È meglio Braim Diaz Oppure È meglio Pulisic Allora Vi faccio questa considerazione In finale Oggi faccio un video corto Perché devo andare a girare Il video sul secondo canale Stiamo parlando Di due giocatori Completamente diversi Stiamo parlando di due giocatori Che giocano in due posizioni diverse Stiamo parlando di due giocatori Con un background Completamente diverso Perché nonostante Braimino arrivi Comunque dalla E comunque Braimino Ha fatto bene anche al Milan Ragazzi Cioè ha fatto comunque Il gol contro Tottenham Ha fatto una grandissima partita Nel 4-0 contro il Napoli Cioè Ci dimentichiamo che Braimino Ha fatto bene anche al Milan E non solo Sta facendo bene In Spagna Che comunque ragazzi In Spagna è un calcio diverso Ve l'ho detto l'altro giorno In Spagna Giocano un calcio diverso Che ben si adatta Alle caratteristiche Di Braim Diaz E comunque Prima qualcuno Nella chat Mi ha scritto Sì ma Lollo Io ho visto Questo ragazzo Ma ha scritto ragazza forse Ma ha scritto Lollo io vedo Ho visto tutte le partite Del Real Madrid quest'anno Sì Braim ha fatto bene Ma su 15 partite Ne ha giocate 5 bene Quindi lei dice Sembra un po' Che questa cosa Venga utilizzata Magari anche dai media Per screditare Anche il Milan No sapete magari Non lo so se è così Però lei scriveva Lei scriveva così Poi Ultima cosa Che vi volevo dire La prima è che Jerry Cardinale Sarà a Milano Domani Per vedere la partita E volevo leggere con voi Insomma Quella che è la formazione Che dovrebbe scendere In campo domani Che già l'abbiamo abbozzata Però diciamo che Pare che sia In via di definizione Quindi Mike in porta Florenzi sulla destra Come vi raccontavo prima Kier e Gabbia centrali Theo Hernandez Sulla sinistra Reinders Benasser E Loftus Quindi riposa Yassin Adli E davanti appunto Pulisi Giroud E Leao Questo era tutto quello Che volevo dire Ragazzi Voi avete due compi Il primo è lasciare pollice Su questo video Per portare fortuna al Milan Mi raccomando Che domani è importantissima Non sottovalutate il Ren Iscrivervi a questo canale E nel primo commento Trovate il link Diretto al mio secondo canale Siamo già a 30.000 view Sul secondo canale Per l'ultimo video Se volete spingerlo ancora di più Andandola a commentare Mi fate solo un piacere Adesso vado a girare il video E il nuovo video Per il secondo canale È riferito Ad una cosa Che ho fatto ieri Sera Chi mi segue su Instagram Sa che cosa mi riferisco Ciao a tutti Forza Milan Vado a via il Cielo Inter Ci vediamo domani Per il prossimo video Ciao Ciao